A soffrire sulle barricate, Miccoli si gira in un passoletto, palla in mezzo, pastore, prolunga la traiettoria, Cavani, palla in aria, Cavani, spinge il tiro, goooool, ed il gol, Cavani, 1 a 0, 1 a 0, era quello che volevamo. A parte Miccoli il tiro, goooool, Fabrizio, Miccoli, 2 a 1, 30 minuti, 5 secondi, neanche il tempo di gioire per il Napoli e si ritorna a gioire ed è fondemonio al Barbera, 2 a 1.